In questa terra non si può non essermi innamorati più con il mondo del Cristo, perché il Devo, dolce, indezza e carità di reggine, tanto nasconde quanto potente, così come non si può sottacere con la vera e giustizia. È inconcepibile che il conflitturio è saltato alla storia nazionale e universale in termini di risorse naturali e umane, in idealità e santo, virtù, forza e sacrifici di mano. Si è ancora imparato dalla cultura generale e controllo. È ora che la meditazione visita sia lasciata alle vostre spalle. Quindi, non so che lo leavo, non è veramente un successo.